30.000 visualizzazioni in meno di 48 ore, 1.600 likes! Direi che la mini serie è confermata e quindi ecco subito il secondo episodio! E ragazzi, come va? Io sono Fereniki! E io sono Steph! E qui si chiama Roblox! Ed eccoci appunto tornati su Lambert & Cune 2! Anche oggi avremo tantissime cose da fare perché nei commenti ci hanno dato prima di tutto tantissimi consigli, poi ci ho giocato un pochettino anch'io e ho scoperto un po' di cose, te lo dico già! Ah sì? Quindi hai fatto delle scoperte interessanti che condividerai col tuo Steph? Sì, assolutamente sì! Perché ne abbiamo bisogno! La cosa più bella è che ci hanno scritto soprattutto più consolini e che esiste un vulcano dove c'è della legna vulcanica che vale tantissimo! Dicono che un quadratino minuscolo vale mille! E vabbè! Quindi dicevano andate a provare a prenderla! Però da quello che ho capito da altri commenti abbiamo bisogno di un'ascia molto molto potente! E certo! E quindi credo anche molto costosa! Quindi dobbiamo fare in modo graduale! Piano piano faremo tutto però per ora dobbiamo stabilizzarci! Credo che il nostro obiettivo sarà quello di riuscire a raggiungere il vulcano! Sai che si potrà morire perché c'è la lava che devi salvare e cadono delle palle infuocate? C'è di tutto! Ma è una sfida impossibile per prendere quella legna! È incredibile! E secondo me è quella lì in fondo in quel monte lì in alto! Scusi! Cosa? Un pezzetto minuscolo! Solo un quadratino ci va bene! Tanto se vale mille! Uno! Un pezzetto! Dai! Dai! Siamo tutti amici qui! Uno! Questo? Questo qua ce lo dà! Noi ce ne andiamo! Ognuno per la sua strada! Non vi disturbiamo mai più! E siamo felici! Allora mi sto fissando con l'ascia in mano! Io non so se è una buona cosa oppure no! Non credo! Saltiamo! I salti sono sempre segno di amicizia! No? No! Abbiamo avuto qualche problema col camion! Però va bene così! Perché è una ruota sopra? Mamma mia! Allora aspetta! Aspetta! Tolgo le scatole e provo a farla responare un attimino! Sì perché secondo me è uscita vagatissima! Aiuto! Cioè non ho voglia di guidare tutto il giorno così! Costa pure a farla responare! Tipo 8? 8 dollari quello che sono! 8? Vieni! Ti ricordi bene tutto! Oh anche di colore diverso! Ok bellina! Allora ci ho giocato ieri sera quindi certo che mi ricordo... Figuriamoci se quando iniziamo i take one tu non inizia a nerdarci da sola come una pazza! Allora io durante i video non lo posso fare perché giustamente ti faccio la compagnia quindi fuori dai video divento un cinese che fa arma! Incredibile! Proprio mi diventano gli occhi così e divento cinese! Dammi una mano! Prendi prima questo! Esatto! Perfetto! E infatti guardo ora lo spazio che hai per mettere la legna! Decisamente comodo! Ok allora voglio tagliare subito un alberello! e vedere le differenze quanto è più comodo! Vediamo così! Pa 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 pa! Si gira si sistema un po'! Vabbè lo devi... Devi... Ecco aiutarlo! Opla! Però guarda quanto è più comodo! Guarda! Sì però una cosa che ti volevo chiedere che probabilmente tu non hai notato! Dimmi! Ok! E hai visto questi pulsanti? Sì li ho notati ma sinceramente non ho capito cosa... Sai cosa dovrebbe osservire? Lo sai! Perché ce l'hanno scritto! Tu puoi cambiare la grandezza e la larghezza dei pezzi che escono dalla raffineria! Oh bello! Bello bello bello! Proviamo! Perché in effetti li fa un po' troppo lunghi secondo me! E a volte bisogna di toglierli a metà! Ne metto un pezzo! Opla! Vediamo cosa diventa! Vedi? Vabbè! Ah più a cubetti! Eh sì! Però è comodo! Può essere più comodo! Perché alla fine ti decidi esattamente come vuoi! È bello questo! Bellino bellino bellino! Vedi? Ci sono delle cose che anche se ieri è innerdato ti sono suggite! Meno male che c'è Steph! No perché non avevo proprio capito! Hashtag! L'ho proprio ignorata della cosa! Hashtag meno male che c'è Steph! Ti piace? Cosa stai provando a fare? No! Vieni qua! No! Ti devo far vedere la mia nuova ascia! No grazie! È bellissima! Ci rinuncio volentieri! Ma è una figata da trasportare così! Sembrano più scatole che legna adesso! Sono 2000 cubetti! Sono troppo bellini! Allora lo lasciamo qua nel caso lo raffiniamo con la nuova raffineria! Sì perché adesso andiamo subito a comprare quella! Perché non ha senso andare poi a prendere nuovi tipi di legna se tanto poi non li possiamo sfruttare! Esatto perché mi sa che da Grezzi valgono meno del legno più brutto! Sì 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 sicuro sicuro! Bene 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 bene! No 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 è tutto a posto tutto a posto! Oh! Non devo sbattere! Non prendere la legna che vogliamo se prendi pezzetti di... No! Ne abbiamo perso uno? Sì! E vabbè dai! Pazienza! È morto! E ci ha abbandonati! Allora eccoci qua! Vai dammi una mano anche a scaricarli a bruciarli perché tanto... Sì ovviamente ovviamente ovviamente! Non c'è problema anche sotto quel punto di vista! Guarda gira gira gira! Almeno sono comodissimi! Cioè prendi lanci! Sì 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 sì! È molto meglio! Come piace a me! Tutte cose veloci guarda! Pam 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 ne le metti in sacco! Avevo inizio a dirlo 1300 di soldi! Vediamo un attimino a quanto arriviamo! 2100! Ok mica male! Ah questo lo lasciamo qui e andiamo a comprare la nuova raffineria! Sì certo certo! Se costa davvero 1600 ci avanzano 500! Che forse potrebbero bastare per la nuova ascia! Ce l'ho fatta! Perfetto adesso proviamo! Vai prova prova prova! Vediamo se davvero ce la facciamo! È difficilissimo! Ci vede in difficoltà! Provo io? No! Ce la voglio fare! Aspetta! L'orgoglio! Ce la faccio! Sì! Va 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 va! Avevi ragione! Guarda come l'ho fatto adesso! Guarda che bel quadratino! Eh no meglio così dai meglio! Almeno sono di meno! Non siamo pieni di quadratini! Esatto! Mi sembra una buona via di mezzo! Ok quindi a questo punto abbiamo un test da fare! Dimmi qual è! Vediamo se siamo in sintonia! Provare se va bene per tutta la legna! Ovvero quale legna tentiamo? Questa piccola! Quale? Questa piccola che ci sta! È quale? È quale? Quella dell'albero rosa! Ah dici direttamente di provare? Ok sì 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 andiamo! Questo qua giusto? Perché tanto scusa! La vecchia legna anche se lì non entra smetti di usarla se questa vale di più! No beh certo se valgono di più non li fai più gli alberelli fini! Quindi secondo me si dovrà tenere solo una raffineria però eh! Secondo me sì! Tanto basta andare nella base di qualcuno di molto figo! Sbirciare un po'! Vedere esatto! Vedere cosa fa! Fai quello! Vai prendi il tuo camioncino e vai a spiare qualcuno di bravo! Ok! Ok? Se lo trovo! Se lo trovi! Spero di sì! Questo albero pesa talmente tanto che non riesco a muoverlo! Mi tocca taglierlo già in piccoli pezzi prima di spostarlo! Posso farti vedere il colore di questo legno con te carino? Guarda! Vero? È troppo bellino! Comunque la raffina quindi quantomeno sotto quel punto di vista funziona! Almeno è utile! Guarda quanti bei pezzetti rosa che ho fatto! Che bellini! Allora! Mi piacciono! Adesso noi abbiamo un pezzo di quello vecchio perché prima abbiamo messo quel tronco che nell'altro non entrava! Ok? Quindi vendiamo prima quello, vediamo quanto ci paga esattamente! Esatto! Vendiamo uno di quelli rosa e decidiamo se conviene ancora tagliare anche gli alberi normale! O se passare a solo quelli rosa! Quindi diciamo che è il test finale secondo me! Sì! Iniziamo a vedere quanto fruttano questi alberi e capiamo un po' cosa è meglio! Tu spiando cosa hai scoperto alla fine? Allora alcuni lo tengono quello base! Cioè ho visto alcuni che avevano la raffineria ancora migliore della nostra! Quindi più potenziata però tenevano quello base! Quindi mi viene da pensare che secondo me li tengono un po' per estetica quando magari la base non è ancora finita! Ok vabbè! Anche perché suppongo che nella nostra c'entra già il legno quello fine! Fino a quando c'è posto ce la teniamo anche noi no? No sì sì non è male! Se poi abbiamo problemi di spazio magari valutiamo l'idea! Allora sto cercando di far entrare anche questo! Perfetto ce l'ho fatta e possiamo andare! Ok! Allora dove è il negozio? Qui dietro! Dietro di noi! Ogni volta poi non lo vedo! Sì sì ce l'abbiamo esattamente dietro quindi non si sbaglia! Ci sto sperando alla grande! Se vale molto ci regaliamo l'ascia potenziata entrambi! Eh sì a voglia! Vero? Facciamo proprio i nababbi! Sì sì sì! Allora pezzo normale sono a 528! Vediamo quanto ci dà il pezzo di legna normale! Allora! Opla! Da 528 a 711! Mica male comunque! Quindi praticamente 200! Un pezzo che è quasi grande è lo stesso tanto di questo colore! Da 711 a 854! Non mi sembra così tanta la differenza! Secondo me sì! Perché comunque guarda che quel troncone ti ricordi quanto era grande! Eh quello era grande! Questi sono tutti piccolini! Esatto! Forse anche quello sì sì sì! Boh secondo me possiamo tagliare un po' tutto sinceramente non sto notando grosse differenze di valore e questa cosa è già strana per me! Abbiamo un'ultima missione per questo episodio! Sai che cos'è? Cosa? Mi sono totalmente ricordato all'improvviso che diversi consolini ci hanno detto che in questa zona iniziale dovrebbe esserci un legno bianco il birch wood se ricordo bene! Ok! Che vale parecchio parecchio parecchio! Quindi siccome ancora non voglio sprecare troppi soldi per andare nella seconda parte ce lo lasciamo per l'ep3! Ok! In questo episodio proviamo ad andare a prendere quella legna! Per farlo ci compriamo entrambi la nuova ascia! Io non ho i soldi! E li compro per entrambi io! Oh grazie! Costa 550 o 1100 quindi proprio giusto giusto! Sembra fatta apposta! Poi se Tom ci vuole fare uno scontino una volta ogni tanto! Tom dai! Ormai siamo clienti fidati! Lo vedi il birch wood lì in alto? Sì lo vedo che poi è come quello di minecraft il legno bianco il birch wood se ci pensi! Però mi sto chiedendo riusciamo ad arrivarci? Non lo so! Anche perché credo che più che minecraft esista proprio nella realtà eh perché! Eh vabbè ma io sto dicendo è come su minecraft perché ce l'ho presente su minecraft! Nella realtà non ho mai visto un legno bianco! Sarebbe bello! Lo vorrei vedere! Eh però non l'ho mai visto quindi non è che posso dire cose che non ho mai visto capito? Giusto giusto giusto! Dove stiamo finendo secondo te? Oh sì boh mi sembra una salita per la montagna! No? Sì sì credo che non ci succeda nulla di male ad andare ancora in avanti a questa qua! Qua ce n'è un pezzetto ma è proprio dai minuscolo sinceramente! No andiamo dove ce n'è di più! Ecco tipo già questo è un bel alberone! È proprio carino! E certo che è carino un bel posto! Però dai andiamo in uno dove ce n'è per entrambi! No saliamo un altro pochino! Anche perché voglio vedere com'è questa montagna! In effetti abbiamo mai visto! Credo che questo sia poi il vulcano eh! Purtroppo il mio camioncino si è baggato! Quindi dobbiamo lasciare un sacco di legna qua! Ci dobbiamo contentare di un singolo albero tagliato! Piano! Sono tristissimo! Piano! Sono tristissimo! Spera che vada davvero... Attenta più a sinistra! Pi a sinistra! Pi a sinistra! L'ho capito! Stai zitto! Ecco qua! Eh... È possibile sto albero! Aspetta 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 aspetta! Vai! Ci penso io! Io sto iniziando a perdere ruote eh! Mi ho sento! Sì! Inizio a vedere una ruota che soffre! Probabilmente pesa tantissimo questo albero! Secondo me magari ci vuole un altro tipo di purgone! Dai secondo me te l'ho piazzato bene! Vieni! Vai! Piano piano gira! Piano piano! Ok! No! E vedi che casca! No! Non è possibile! Allora! Uno! Oddio 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 sta per baggare! Tocco tutto! Mi sta venendo il nervoso! Vieni! Vieni che va avanti da sola! Vai! 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 Non ce la faremo vero? Sì che ce la facciamo! Ok ferma! 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 Ne sono caduti due! Eh non si fermava! Che ti devo dì! Che ti devo dì! Guarda va avanti da sola! Ma poi cascano da solile! Io li vedo passare attraverso il furgone! Ah! Che bello! Ma quanta legna abbiamo portato a casa! Ma quanta ne abbiamo portata eh! Passano attraverso! E siamo rimasti con un tronco! Vabbè! Ascolta! Sì! Io torno indietro e cerco almeno di rinforzare! Ok vai! Vai! Vai 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 vai! Di che collo si diventa? Oh ma che bel bianco! Da lì! Brava! Sì 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 stendendo giusta! Rita così! Eccoli! Vai! Abbiamo lasciato come le briciole capite nel sentiero! Abbiamo lasciato pezzi di alde! Adesso le faccio respawnare anche io! E vieni a darmi una mano! E vengo a darti una mano! Allora se riesco a cliccare questo bottone! Ok perfetto! Arrivo signorina! Recuperiamo tronchi! Momento di silenzio! Ho 13! Scusami! Eh vabbè! 13 di valore! Ne metto uno bello grande! Ok! Ti prego dimmi 200! Eh sì! Dai sì! No non sei soddisfatto neanche così! Bah! Bah! Per quanto ci metti ad arrivare a trasportarla! Secondo me fai prima con della legna normale! Ma dobbiamo passare qui in mezzo? Oh che bello! Ma c'è la lava! Ahiaiaia sto subendo danni! Aspetta! Allora parcheggiamo fuori! Ma anche tu? Non lo so perché come me l'hai detto ho evitato di entrarci! Mi fa una roba rossa! Ma stai morendo! Sì! Stiamo prendendo tantissimi danni! No tanti no! Però ne prendiamo! E non capisco! No 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 no! Via 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 via! Cioè dobbiamo scrivere i pallini rossi o è proprio una questione di calore? No vabbè cioè guardate che cos'è questo posto! Ci sono le palle che rotolano giganti! Eh vabbè ma è una cosa difficilissima! Boh! Come faremo a non prendere danno? Ci vorrà qualcosa per forza! Forse è un maglioncino! Ho qualche veicolo speciale che ti permette di entrare lì dentro! Anche potrebbe essere! Non lo so perché sì anche io stavo prendo danno! Non ho idea! So solo che fa parecchio danno e non è il caso di rischiare! Da qui non c'è nulla quindi quello è il passaggio per andare lì sopra! E di conseguenza seconda delusione! C'è un tizio che sta lavorando un albero rosso! È quello di lava! Sì! Adesso mi sa che io ti lascio un attimo! Vado lì e provo a convincerlo a darmene un pezzo! Ok! Va bene! Non te lo darà mai! Non me lo darà mai! Penso che neanche si possa fare sinceramente! Non lo so! Se mi metti in whitelist sì! Dici! Eh sì! Io ci provo! Ci provo! Vai! E chi è il numero uno? Non ci credo! Chi è il numero uno? Io ne volevo un pezzetto piccolo piccolo! E mi ha dato addirittura due assi abbastanza grandi! Ed era inglese! Non era un consolino! Sì! Ho notato! Ho notato che era una persona random! Ci tengo a precisare! Vale il doppio! Perché è proprio una... L'ho convinta a darmi questi due pezzetti! Vabbè gentili! Dai gentili! Spostati un attimo che proviamo! Aspetta fammi finire questo! Ho paura che la nostra raffineria purtroppo non sia adatta! Vero? È rossissimo! Mamma mia mi sta scecando! E' bello, bello, bello! È super rossa! Ma non è che è già raffinato infatti? Ci provo! Vai! Dimmi! Aggiornami subito! Primo pezzo! Ho 591 in questo momento! Attenzione! Quanto? Ah! Che succede? Avendolo raffinato lei... I soldi vanno a lei! Non ci avevo pensato! Aspetta! Vediamo almeno lei quanto fa! 5.724 6.000 Bah! 300 alla fine sinceramente! Cioè tu devi andare tutto su rispetto a prenderti gli alberelli qua e la differenza è 100 di valore! Non capisco bene i ragionamenti del gioco! Cioè è tanto! Però sarebbe tanto se gli altri tipi di legna ti dessero molto di meno! Esatto! Esatto! Quindi alla fine... Boh! Non lo so! Non lo so! Sinceramente c'è qualcosa che non... C'è qual quadra che non cosa! Capisci? Eh non lo so! Ho forse gestito un po' male il valore della legna! Non lo so! Ho forse in base a che raffineria la metti un tipo di legna... Eh sto pensando anche quello! Vale di più o di meno! Non lo so! Non lo so! Perché magari la raffineria adatta a ogni tipo di legna e se la metti in quella sbagliata gli fai perdere valore! Ok! Gli ultimi pezzi vediamo a 3.000! Non credo che ci arriviamo purtroppo! Però secondo me arriviamo più o meno a 2.500! Anche perché ho un bel pezzone che sto mettendo adesso che credo che varrà parecchio! Anche qualche altro pezzetto di questo! C'è la persona che... l'inglese che mi aveva regalato i pezzi rossi che purtroppo non sa che alla fine si è autoregalata i trucchi! Secondo me lo sa e l'ho fatta apposta! Dici che mi ha trollato malissimo? Perché quando ci sono aumentati i soldi ha scritto un XD nella chat! Ah! Quindi secondo me altro che gentile ti ha trollato malissimo! C'è una vergogna! Cioè ti fai trollare dagli inglesi! E io pensavo che non fosse ancora raffinato! Mi ha fregato! Perché è rossissimo anche da puro! Eh infatti! Non l'avevamo mai visto da vicino! Esatto! Esatto! Sono stato fregato! Comunque 2600! Non male! Ci stiamo avvicinando a poter prendere l'espansione del terreno! Quindi è figo! Prossimo episodio poi andiamo anche nella zona nuova! No prossimo episodio partiamo così! Zona nuova istantaneamente! Esatto! Negozio dei veicoli e ci compriamo il carretto! Sì assolutamente! Così poi andiamo a prendere tantissimi alberi bianchi o gli alberi che ci sono lì che sinceramente Vanno visti quindi almeno li controlliamo! Ci prendiamo un po' di roba! La raffiniamo! La vendiamo! E magari ci espandiamo un pochettino! Esatto! Esatto! Anche perché tanto la prossima raffineria poi costava tipo 11.000! Quindi per ora non stiamo tagliando alberi abbastanza di valore da poterlo fare! Quindi assolutamente no! Ci dobbiamo impegnare! Ci dobbiamo impegnare! Bene che se vi piace ci piace ci piace ci piace! Dice un bel like! E se è la prima volta che vedete il nostro video potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao!